È una delle malattie cronico-degenerative più diffuse in Italia, ne soffrono oltre 4 milioni di persone, circa l'8% della popolazione. La malattia diabetica, prevenzione e cura con al centro il ruolo del team diabetologico, questo il tema del convegno, promosso dal centro polidiagnostico Gamma Cord SanioTAC con il patrocinio dell'Associazione Medici Diabetologi dell'Ordine Provinciale dei Medici di Benevento. Gli strumenti che effettivamente possiamo utilizzare per combattere questa malattia risiedono principalmente nella prevenzione che è il perno di tutto. Educare il paziente, educarlo alla gestione corretta della malattia diabetica, sia nell'ambito sanitario che nell'ambito domiciliare. E in ultimo, indubbiamente, il nostro aggiornamento come operatori sanitari e nel team diabetologico è fondamentale per informarci e formarci su tutte quelle che sono le nuove possibilità che abbiamo a disposizione. Il paziente resta al centro dell'attenzione, è lui il vero attore della sua malattia, quindi l'importante per noi operatori sanitari è quello di creare un'empatia con il paziente, sensibilizzarlo ai suoi problemi, cercando di essere di aiuto senza spaventarlo ovviamente. Non fare azione di terrorismo, ma fare azione di sensibilizzazione in modo da poter combattere insieme questa malattia che è veramente destruente in certi casi.